Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto questo nuovo, diciamo, elicottero che è stato aggiunto da Rockstar per la modica cifra, ragazzi, di poco più di un milione e 815 mila, insomma, non è il Sea Sparrow, ragazzi, questa mostrata di veicolo, è proprio una mostrata, cioè fa proprio cagare, una cagata pazzesca, comunque andiamo a modificarlo insieme e andiamo a vedere le poche cagate che ha questo veicolo, perché come tutti i veicoli del resto hanno veramente pochissime cagate, non i veicoli, scusate, velivoli, come tutti i velivoli, sono qualcosa di allucinante, io ve lo giuro ragazzi, non capisco perché la Rockstar continua ancora a metterse merdate, questo qui ragazzi dovrebbe essere un elicottero che atterra sull'acqua, ragazzi, è un mostruoso, insomma, uno dice, ah, vedi, atterra pure sull'acqua, è una cagata pazzesca, regà, è una cagata pazzesca, sinceramente, secondo me non li vale tutti questi soldi, il milione, ma proprio in se stesso gli aerei, ma che cazzo c'è devo fare con tutti questi aerei, a Rockstar, ma c'è rotti i coglioni, invece di star lì a romper cazzo con gli aerei e a romper cazzo con le macchine e con tante altre merdate, perché hai trasformato GTA in un gioco bellissimo che era, l'hai trasformato in una guerra totale, cioè, se io volevo a guerra, giocavo a Battlefield, non giocavo a COD, non giocavo a GTA per la madonna, cioè, dai e Rockstar, dacci una tagliata con questi veicoli di merda, ok, questo non è un veicolo da guerra, comunque spara, non serve a un cazzo, non serve a un cazzo, perché secondo me non serve proprio a un cazzo un veicolo del genere, come tutti gli altri veicoli, servono solamente a farci spenne sordi, brutti testa di cazzo della Rockstar Game, ma avete rotto i coglioni, invece di star lì e cagar cazzo con questi veicoli, perché non mettete che chi si suicida in qualunque caso prendete e gli abbassate il radio, per dire, perché non risolvete tanti bug, invece di star romper cazzo con questi aerei di merda, che neanche atterrano sull'acqua, ok, a me se non concesso che io sono atterrato come un kamikaze in mezzo all'acqua, però, vabbè, comunque sia, avrebbe dovuto minimo galleggiare, sì, galleggia, come no, a testa in giù rega galleggia sto coso, comunque sia, vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare, cara Rockstar, facci un regalo grande, elimina tutti ste teste de cazzo che se suicidano per mantenere il radio, fanno un gioco de merda e tutto il resto, cerca di correggere il gioco, non mettere altre cagate, perché se no, farà la stessa fine di PS3 il gioco, ma tanto figurate se voi state assenti a me brutte teste de cazzo, comunque niente ragazzi, sotto bandiera francese, vi lancio un saluto, un saluto a tutti e al prossimo video. Grazie a tutti!